salve a tutti ragazzi sono inferno86 sono qui oggi in un mio nuovo video e portarvi vorafone fwa una brutta esperienza e ragazzi vi voglio raccontare cosa mi è successo con la vorafone attivando la connessione radio fwa e la mia brutta esperienza purtroppo questo è una conseguenza di perché non riesco a portarvi video non riesco a portare i contenuti su youtube e quant'altro perché in questo paese la connessione purtroppo è un po una merda e vorrei portarvi live vorrei portarvi video vorrei portarvi quant'altro ma purtroppo ho sempre problemi con la connessione avevo messo una rete privata una simile euro che purtroppo mi dà problemi anche quella che è la mia attuale e tramite un consiglio di un amico sono su internet ho cercato la connessione fwa ho visto che la vodafone da gennaio ha messo copertura su questo paese di montagna quindi ho detto vabbè proviamo vediamo com'è chiamo prendo appuntamento prendo appuntamento su internet mi richiamano fisso l'appuntamento e il giorno 10 sono venuti a mettermi la connessione dovevano venire alle 11 del mattino sono arrivati all'una e mezza vabbè hanno trovato problemi traffico e quant'altro progetto vabbè chi se ne frega se ne vanno via di qua che sono le tre e mezza la connessione funziona era una 300 in download con 50 in upload e ho detto bella funziona tutto quindi posso scaricare i giochi con una velocità maggiore posso portare live sul canale viola per chi mi segue sul canale viola lo sa che comunque ogni tanto faccio live ma per problemi di connessione non sto facendo niente anche lì e ho detto vabbè funziona tutto perfetto spettacolare almeno cambio la mia attuale che è una 40 10 quindi 40 download e 10 upload così dico miglioro un pochettino sistema un po la connessione quant'altro ma riesco portare contenuti su youtube nervoso parte il nervoso perché a un certo punto la connessione da 300 mega che poi non erano effettivi perché 300 mega sono il massimo a cui può arrivare la connessione va a 260 a un certo punto va a 90 80 e cavolo ma cosa è successo allora aspetto un po dico magari deve passare un po di tempo si sistema il tutto invece no chiamo mi risponde il primo elemento che mi dice di aspettare 48 ore perché ci sono degli aggiornamenti di vodafone sia dall'antenna che da router che deve passare 48 ore per sistemarsi il tutto io non contento richiamo un'altra volta e dico ma cavolo come è possibile ok gli aggiornamenti è tutto però devo avere una 300 mega mi va 80 e io non posso fare niente devi aspettare 48 ore va bene aspetto quelle 48 ore richiamo un'altra volta mi risponde un elemento ragazzi il primo non mi ricordo il nome questo qua lo dico perché si chiama alessio un emerito coglione ragazzi un emerito coglione gli spiego cosa è successo gli dico guarda purtroppo la connessione non mi funziona mi va a 100 mega mi dovrebbe andare a 300 mega parte dicendomi 300 mega impossibile non ti arriverà mai a 300 mega si ho capito 300 mega è il picco massimo mi andrà a 250 ma anche 200 mi va bene ma io non vedo problemi non trovo nessun problema ti va a 100 mega non sei contento scusami ma io se pago i 24 euro e 90 per una 300 mega voglio una 300 mega mi dice è quella che c'hai ti dovrebbe andar bene ma mi va bene se io pago una determinata connessione voglio che quella connessione sia quella ok a un certo punto mi fa incazzare perché gli dico guarda ho sentito un tuo collega mi dice che devo aspettare 48 ore quindi per fare questi aggiornamenti sia del router che dell'antenna mi diceva impossibile un mio collega non avrebbe mai detto una cosa del genere perché non è vero ma scusa mi pensi che mi sto inventando stronzate e per me sì come per te sì incazzo inizio vabbè li tiro dietro qualche bestemmia qualche incazzatura perché vabbè ho problemi di connessione finalmente posso fare i video le live come si deve quant'altro dico non funziona se mi gira un pochettino la minchia e dico vabbè a un certo punto gli ridico ancora e si guarda ma ha detto di aspettare 48 ore impossibile è una cosa che non esiste non mai sentito una cosa del genere e serio mi prende per il culo diretto ma veramente detto sì sì mai sentito una cosa del genere intanto rideva in sottofondo mi stava prendendo per il culo e mi sono incazzato a go go alla fine dopo i miei continui diciamo insulti mi ha riattaccato il telefono non contento io richiamo per la quarta volta mi risponde un altro elemento gentile tranquillo mi dice guarda non so perché gli altri colleghi non ti hanno detto cosa devi fare ma devi staccare il router e l'antenna aspettare un'oretta vedrai che tutto si sistema erano le cinque e mezza del pomeriggio dico vabbè me ne vado a dormire intanto aspetto che passa quell'oretta oretta e mezza riattacco il tutto mi sveglio riattacco il tutto faccio lo speed test e mi va ancora 100 mega e dicono parca puttana come possibile ma ti staccare ma che funziona tutto di qua e di là era una stronzata assurda perché non sapevano più che cazzo dirmi richiamo mi risponde di nuovo questo alessio qua sto cretino veramente ma veramente un cretino dico mica ancora tu gli atto per favore mi puoi passare un'altra persona c'è no sono io l'interlocutore quindi di parlare con me cosa c'è ancora ascolto di tutto stai calmo perché già mai fatto già di coglioni prima gli ho detto guardaci io ho problemi nella connessione mentre parlavo col bot perché ragazzi il bot della vodafone è una boiata assurda una volta cliccare il tasto digita uno suoi parlare con un operatore e tutte queste cagate qua ma è tutto vocale una stronzata cioè non potete parlare con l'operatore perché c'è il bot che è un imbecille come quelli della vodafone e purtroppo non non sono riuscito a parlare come non riesco a parlare tuttora con un operatore niente gli dico guarda il bot mi ha detto che c'è un problema sulla mia linea adesso controllo controlla e mi dice si hai ragione è letto grazie al cazzo cosa ti cercavo di dire prima e ho capito ma non c'era il bot ma il bot vai sul computer scrivi problema connessione pinco pallino a problemi connessione vediamo i problemi della connessione e ti esce che problema c'è la connessione e dico cazzo ma ci voleva tanto allora mi dice vabbè dai ti faccio ti apro un ticket e vediamo se ti richiamano ti richiama servizio tecnico così ti sistemano io convinto che avrebbe fatto un'azione del genere invece sto bastaso cosa ha fatto sicuramente mi ha messo qualcosa a mio nome infatti io non riesco più a a parlare con un operatore mi hanno bloccato la linea quattro giorni dopo quindi ragazzi io ho attivato il 10 il giorno 14 mi hanno staccato la linea definitivamente proprio staccata vedevo che lampeggiava sul modem e dicevo cazzo ma com'è possibile aspetto un po il giorno dopo lampeggia ancora vado a vedere c'è il mappamondo sul pc in basso a destra dove ci sono le connessioni c'è il mappamondo e dico cazzo ma non va richiamo chiamo parlo col bot do il numero della pratica perché si deficienti no che mi dovevano lasciare sia il nome sia la password provvisoria per entrare nel sito sia un numero di casa non mi hanno lasciato niente nel contratto non c'è scritto niente c'è scritto solamente l'attivazione della promozione cose mi attivano quello con l'altro e di tutto questo non c'è scritto niente quindi io dove cazzo vado a prendere queste cose quando entro quando parlo col botte il botte mi chiede il numero della pratica di dormona pratica mi dice un numero fisso che non so se il mio oppure no io dico di sì e poi mi dice per questione amministrative la chiamata deve essere monitorata mi parte la musichetta una sorta di musichetta poi mi risponde di nuovo il botte mi dice su questa su questo numero non sono attive fatture mi mettono giù ho chiamato tutti i numeri l'ottocento il 43 23 30 i numeri della volta non me li ricordo però ne ho chiamati veramente tanti ho chiamato ma addirittura un centro vodafone che a messina perché io sono in provincia di messina e qua vicino a me non ce n'è quindi 200 chilometri ho detto chiamo loro vediamo se mi possono aiutare mandato nodi per farsa chiamare il 190 ea me il 190 non risponde quindi ragazzi sono bloccato con la vodafone che ho attivato il contratto quindi 24 ore 90 al mese 35 di di assistenza tecnica quindi che hanno montato router antenne quant'altro 5 euro al mese di come dato d'uso di router e alla fine mi hanno mi hanno bloccato la linea quattro giorni dopo che ho attivato meno attivato mano disattivato la linea e non riesco a parlare con loro non mi mandano messaggi non mi mandano mail non mi mandano niente io non so cosa fare quindi sono dovuto tornare indietro con la mia vecchia connessione perché quei furbi di quelli che mi hanno messo la connessione cosa hanno fatto mi hanno tagliato il cavo della vecchia connessione che ancora era attiva e per attaccare l'antenna vodafone quindi dovuto staccare l'antenna portarla più in più in basso e attaccare il cavo rimetto la mia vecchia connessione perché sennò con loro rimanevo fottuto quindi non vi potevo portare sto video e stasera spero che riesco a andare in live sul canale viola spero di riuscire ad andare comunque ragazzi vi ricordo che io sono sul canale viola non sempre perché vi ripeto problemi di connessione quindi sono talmente sfigato che sta connessione qua non si sa mai quando arriverà però volevo portarvi questo video per farvi il mio sclero questa brutta esperienza con vodafone quindi purtroppo l'unica connessione attiva perché dicono che team non è buona e dicono che fast web ancora non è attiva quindi non so che cavolo portarvi cioè non so che cavolo mettere quindi non so cosa portarvi anche contenuti ragazzi se avete dei contenuti dei giochi che volete che vi porto per comunque a riprendere il canale tutto mi raccomando ragazzi ditemelo perché io veramente non so cosa portare voglio riprendere la sd voglio riprendere un roba tour e riprendere quant'altro ma con questi problemi di connessione veramente non ce la faccio però se voi magari mentre sul canale viola ogni tanto in descrizione ragazzi vi lascio il link trick link dove ci sono tutti i miei social tra cui c'è anche il canale viola quindi se volete ragazzi seguitemi ogni tanto qualche mio vecchio follower e amico mi viene a trovare in line live sul canale viola quindi se volete venire ragazzi mi raccomando fatelo perché mi mancate un po tutti e vi prometto che vi porterò contenute adesso ripeto voglio portare last day voglio portare un robot voglio portare qualcos'altro inventerò qualcosa perché voglio riprendermi youtube perché veramente non ho un cazzo da fare quindi devo riuscire a riprendermi sto youtube mi sono tolto anche la partnership l'ho detto anche l'ultima volta nel video ragazzi vi porto la serie quant'altro poi alla fine mi sono fermato per questi problemi di connessione che veramente mi stanno soffocando perché vorrei fare tantissime cose ma non riesco a fare niente purtroppo quindi spero ragazzi che riesco a sistemare spero che prima o poi metteranno alla fibra in questo maledetto paese di montagna perché è un bellissimo paese paesaggio dalla mia terrazza vedo le isole olie c'è un bellissimo paese però veramente la connessione non va quindi niente ragazzi io spero che il video si è sentito bene spero che sia andato tutto bene è da tanto che non faccio video quindi mi sono impallinato scusatemi ragazzi vi ricordo comunque che io sono sul canale viola che se riesco a sistemare la connessione ritorno anche a fare live streaming su youtube quindi niente ragazzi come sempre vi ricordo di spolliciare mi raccomando spolliciate commentate perché mi mancano i vostri commenti quindi mi piacerebbe magari rispondere a qualcuno qualche mio vecchio follower qualcuno di nuovo quindi ragazzi coraggio commentate condividete se volete e per chi non l'avesse fatto mi raccomando si iscriva al canale quindi niente ragazzi io chiudo quel video vi ho fatto sapere la mia brutta esperienza con vodafone fwa spero che non mi prenderete troppo per il culo fatelo fatelo perché sono molto sfigato quindi niente ragazzi io chiudo quel video grazie a tutti di aver visto questo video e ci sentiamo alla prossima bella ciao ciao